Nessuna iscrizione al prossimo campionato di seconda divisione per l'Andrea Calcio, che dopo 30 anni appende le scarpe al chiodo. L'ufficialità dalla Lega Pro arriverà nelle prossime ore a seguito della scadenza della documentazione necessaria fissata al 1 luglio. Nessuno della dirigenza azzurra si è presentato in Lega per depositare la domanda di iscrizione di quasi 200 mila euro. Nessuno, lo scorso 25 giugno, ha presentato le carte che attestassero i pagamenti degli stipendi del mese di aprile. Di fatto, la fine dell'Andrea era segnata da tempo, visti i debiti di quasi 2 milioni di euro. Le retribuzioni non pagate, una società di fatto assente. Il patron De Pasquale aveva ribadito più volte anche ai nostri microfoni di avere un progetto e delle modalità con cui iscrivere la squadra al prossimo campionato, risolte oggi non nulla di fatto. Il Consiglio federale certificherà tra 15 giorni la fine del professionismo in città, dove regna l'amarezza per una fine calcistica così indecorosa. 1 luglio in tristezza anche per il Barletta, che nonostante la salvezza nel campionato di prima divisione conquistato ai play-out proprio ai danni dell'Andrea, in queste ore si ritrova assenza il suo stadio Puttilli. In ottemperanza la comunicazione inviata al club Biancorosso da parte del Comune di Barletta nel mese di aprile si legge in una nota. La società presieduta da Roberto Tatò nelle ultime ore ha dovuto inderogabilmente provvedere al rilascio dell'immobile e degli impianti interni alla struttura, a risollevare gli animi la certezza che si tratti di un abbandono temporaneo, stando alle recenti aperture al tema del sindaco Pasquale Cascella. Nella questione fanno sapere da Palazzo di Città torneremo a discutere in tempi brevissimi, probabilmente già la prossima settimana.